Pazienza e resilienza. L'assessore alla cultura, Rosanna Arru, mette in rima gli sforzi della Giunta per confezionare un'estate sassarese di spettacoli ed eventi. Sullo sfondo lo spettro del Covid-19 e dei protocolli di sicurezza che limitano attività e scelte degli spazi per le performance. Ancora da sciogliere peraltro il nodo, oltre che il voto del 14 agosto, con la discesa dei candelieri che, avverte l'Arru, al momento non è programmabile. Nell'attesa, l'amministrazione pensa ad alternative, anche online e televisive, per richiamare la folla virtuale che non potrà essere presente in massa alla Faradda. Al di là dell'evento Clusa-Sarese per Antonomasia, la consigliatura Campus promette una stagione di intrattenimenti in partenza probabile dal 1 luglio. Un'estate vivace che riscatti i cittadini dal lungo lockdown e sopperisca, parole dell'Arru, al maggio spavillante e accantonato per l'emergenza coronavirus. Al vaglio di tecnici e vigili del fuoco, l'agibilità degli spazi papabili per le esibizioni, da Piazza Moretti all'Evergreen del Piazzale della Scuola numero 2 fino al Cortile di Santa Maria. Escluse o ridimensionate altre ipotesi, da Montserrato a Bad di Manna al Padiglione dell'Artigianato. Oltre agli spazi, la giunta promette agli artisti l'importante voce dei servizi. Manotesa quindi verso la categoria trascurata dei performer, sperando, come si augura l'Arru, che la città risponda al cartellone di eventi ancora in via di definizione. Grazie!